Senza porto da sei giorni con 121 navi a bordo e qui parliamo della Open Arms, meglio multati che complici e questo ci aiuta anche a introdurre il tema relativo all'immigrazione, il tema relativo al sicurezza bis. Ieri ne abbiamo parlato in maniera approfondita. Allora su una di quelle navi è stato per parecchio tempo Erasmo Palazzotto, ci siamo anche collegati con lui spesso e volentieri da quelle navi e adesso tutto quanto Palazzotto viene messo in secondo piano, è un tema che sostanzialmente non riscuote più quell'interesse? Ma è un tema che in un paese normale non dovrebbe riscuotere tutto questo interesse perché quelle 121 persone dovrebbero essere fatte sbarcare così come prevede la legge, bisognerebbe prestare gli assistenza e poi verificare le condizioni ed eventualmente discutere con gli altri paesi europei come gestirne l'accoglienza. Purtroppo siamo in un paese che ha costruito su questo terreno una narrazione falsa perché non saranno quelle 121 persone a cambiare le sorti dell'immigrazione in Europa. Non lo sono le circa 300 che in tutto il 2019 sono state salvate dalle ONG. Ricordo che mentre l'ultima nave di Mediterranea, prima di essere sequestrate, si trovava con 59 persone a largo di Lampedusa nelle stesse 50 ore in cui quelle persone venivano costrette a rimanere sotto il sole arrivavano autonomamente a Lampedusa con le imbarcazioni 200 persone. Per cui rispetto a questa vicenda della guerra alle ONG si sta costruendo una grande campagna mediatica che serve a giustificare altre misure e a coprire altri fallimenti del governo. Io tanto vorrei far vedere